Finestre scorrevoli o abbattente? Ciao sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973 Ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi Prima di tutto dobbiamo chiedere una cosa, che cos'è un'apertura scorrevole? L'apertura scorrevole è appunto un qualcosa che scorre, un pannello di vetro che scorre Abbattente invece è la classica apertura finestre a Dante Quando preferire una piuttosto che un'altra perché non esiste un'apertura migliore Dipende soprattutto dalle prestazioni termiche e acustiche che voglio ottenere e dalle dimensioni Quando avrò dimensioni molto molto grandi e non vorrò avere magari molti montanti Che mi vanno a interferire con la vista che ho dall'altra parte della vetrata Dovrò preferire una vetrata scorrevole Quando invece avrò magari delle esigenze termiche ma soprattutto acustiche molto molto elevate Un battente è sempre preferibile perché sia termicamente che acusticamente È un tipo di soluzione di infisso che dà delle prestazioni maggiori Poi dipende da come è stato fatto, da che materiale è costruito e soprattutto da come viene montato Ma a parità di materiale e a parità di condizioni di montaggio della bravura di chi l'ha installato Un battente vincerà sempre la gara con lo scorrevole Poi ci sono altri fattori da tenere in considerazione C'è anche il fattore della particità Magari se ho una vetrata di 6-7 metri Abbattenti mi potrebbe diventare un po' scomoda E proprio per questo motivo è interessante fare una consulenza approfondita Prima di scegliere i tipi di apertura Magari anche insieme al progettista che sta curando il progetto E queste consulenze però di solito le devi fare con chi ti vende le finestre E chi ti vende le finestre pensano in evidente conflitto di interessi Perché potrebbe consigliarti la soluzione che fa più comodo lui E proprio per questo motivo ho ideato un servizio di consulenza con il sistema Bisacchi Dove posso aiutare tutti quei clienti che non riesco a servire per ragioni magari di distanza direttamente con la Bisacchi Ma i quali hanno bisogno di un consiglio appunto disinteressato Lo faccio attraverso la consulenza che puoi trovare su www.blogvisacchi.it E ho dedicato 4 ore alla settimana a sabato pomeriggio Se vuoi sapere di più vai sul sito e richiedi la tua consulenza personalizzata Ciao e al prossimo video Ciao e al prossimo video